Ben tornati sul mio canale, in questo video voglio farvi vedere il kit scuola della kinder di cui vi accennai già precedentemente in un altro video dove spiegavo come si faceva per averlo nell'info box lascerò il link dell'altro video per andare a vedere vediamo insieme la scatola come si presenta devo dire che è molto bello questo kit, io ne ho ricevuti 4 vediamo all'interno cosa troviamo allora, prima cosa un pacco di pennarelli della carioca veramente la confezione è molto carina ecco qui vediamo dove ci sta questo astuccio dove i bambini possono mettere le monete, quello che vogliono cose per la scuola, matite questo pure è bello vediamo insieme le matite che sono arrivate sembrano proprio delle cannucce veramente belle anche queste questo invece è il portamatite volendo ecco qua, possiamo mettere pure le penne, ciò che vogliamo molto realistico, sembra proprio il bicchierino quello là dell'estate molto bello molto bello poi come ultimo regalo abbiamo questo qui che è il quaderno sempre tutto firmato all'interno si presenta così, vedete è di matematica ogni pagina ci sta questo disegno qua dell'estate con gli occhiali diciamo è un kit molto bello soprattutto per i ragazzi che vanno a scuola o i bambini veramente sono rimasta molto soddisfatta quando ho visto il kit io ne ho ricevuti 4 come vi ho detto già precedentemente perché ho giocato più di una volta bastava mandare una fotografia al loro indirizzo email con lo scontrino degli estate acquistati che dire, spero che questo video vi sia piaciuto volevo ringraziare a tutti coloro che si sono iscritti al mio canale spero che cresceremo sempre di più lasciate un like iscrivetevi al canale condividete e ci rivediamo al prossimo video ciao, un bacione